Grande successo per la serata di Le Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un faccia a faccia tra la giornalista e anchor di Le Fonti TV Alan Friedman e Corrado Passera, CEO di Limited Bank, dal titolo Banche e Imprese, prospettive per il prossimo futuro. Eccellenza dell'anno Innovazione Leadership e Diagnostica Molecolare, Elitec Group. E aspettiamo più fai qua anche il nuovo premiato di questa sera per essere un'eccellenza italiana da oltre 30 anni nel campo della biologia molecolare, per aver esportato il successo italiano in tutto il mondo e per aver raggiunto i propri obiettivi ricercando personale altamente specializzato, investendo per sviluppare piattaforme automatizzate e strumenti diagnostici all'avanguardia. Roberto Meda, amministratore delegato di Elitec Group. È una società che intanto, per quello che riguarda i Le Fonti Awards 2019, si aggiudica il premio come eccellenza dell'anno Innovazione Leadership e Diagnostica Molecolare. Commentiamo intanto questa vittoria. Sono riconoscimenti che fanno comunque sempre piacere, immaginiamo, anche se avete già dei grandi riconoscimenti sul campo per la vostra attività quotidiana. Sì, guardi, in effetti veniamo giudicati facendo parte di una multinazionale quasi quotidianamente, mensilmente, trimestralmente, sulla base dei risultati che portiamo. Un premio di questo tipo è un riconoscimento un po' diverso dal solito, va al di là dei numeri, che è tutto quanto delle tante donne e degli uomini che lavorano all'ombra della mole in Elitec e che tutti i giorni dedicano alla produzione di reagenti e sistemi diagnostici molecolari davvero una competenza e una passione davvero fuori dal normale tutta loro. Dottor Med, operare in questo campo così speciale, così particolare come quello della biologia molecolare, intanto che cosa significa? Se dovesse descriverlo ad una persona che non ha confidenza con questo settore, ce lo potrebbe descrivere appunto come? È un settore della diagnostica in vitro, si tratta quindi di esami del sangue eseguiti su fluidi, come il sangue o altri fluidi, ed è un settore, diciamo, nell'ambito della diagnostica emergente e tecnologicamente più avanzato di altri perché è nato sostanzialmente solo una ventina di anni fa, nell'ambito della diagnostica è una parentesi di tempo abbastanza breve ed è dedicato a normalmente la diagnosi e il monitoraggio di patologie particolari. Elite Group in particolare si è distinta in questi anni e ha assunto una leadership assoluta a livello globale nel monitoraggio della terapia di sostenimento e mantenimento per il trapianto di organo, sia solido che liquido. Quindi questo è il primato, diciamo, a livello mondiale che vi possiamo riconoscere, la vostra leadership assoluta in questo settore? Sì, quella che lei definiva prima l'officina molecolare è riconosciuta come una piccola maranello della biologia molecolare, quindi abbiamo prodotto in questi anni e stiamo continuando a produrre cose, direi, uniche nel loro settore cercando di scansare il mass market che invece è seguito dalle aziende più grandi delle nostre perché dobbiamo fare fronte alle nostre dimensioni. Di quali competenze ha bisogno un'azienda di questo tipo? Le competenze sono le più veramente diversificate. In assoluto la prima competenza è data per la stragrande maggioranza biologi molecolari. Poi abbiamo tanti ingegneri, perché si tratta comunque di tecnologia avanzata, e alcuni laureati comunque in materia scientifica. Abbiamo un personale che è laureato per un'altissima parte, quasi l'85%, e ci tengo a sottolinearlo, quasi il 65% formato da donne, che ci danno le soddisfazioni migliori da questo punto di vista. Della vostra azienda si parla in almeno 100 paesi nel mondo, visto che voi le vostre soluzioni appunto le distribuite in almeno 100 paesi. Con quali si lavora meglio in questo campo? Eh, bella domanda. Direi quelli europei sicuramente, Stati Uniti, e anche se i più curiosi, quelli che danno più soddisfazione, sono i cosiddetti paesi emergenti. Quindi sono paesi per i quali la biologia molecolare è considerata ancora una frontiera da conquistare, e su questi paesi riusciamo a proporre soluzioni che, pur essendo nuove anche a livello europeo, risultano essere particolarmente attraenti per mercati emergenti, come quelli appunto del Far East, piuttosto che del Sud America. Quanto dovete investire in ricerca? Tantissimo. Investiamo continuamente in ricerca. Per fare innovazione ci vuole anticipo, ci vuole idee, ci vogliono idee, ci vuole sostanzialmente immaginare quello che succederà domani. Facciamo tante ricerche, sapendo di correre il rischio di sbagliare o di non portare a termine positivamente alcuni di questi esperimenti. E' il rischio di impresa anche questo. E' il rischio di impresa anche questo, e cerchiamo di fare innovazione anche nel sistema di alimentazione delle persone stesse che lavorano con noi. Perché, dicevo, sono persone davvero particolari, che vanno al di là del buon prodotto e della buona piattaforma, che è l'ingenius, quella che distribuiamo in Italia e in tutto il mondo, che siamo in grado di produrre. Sono persone che riescono a dare un livello di agilità e anche di imprenditorialità, a qualunque livello, che ci garantisce questa continua innovazione, che ci permette, fra parentesi, di crescere in un mercato che è altamente competitivo. Perché voglio ricordare che lavoriamo con grandissimi multinazionali che dispongono di capitali e risorse ben più alti delle nostre. Dottor Meda, che progetti ha per questa azienda nel medio e nel lungo termine? Che progetti avete nel cassetto? Da un punto di vista commerciale, espansione geografica. Quindi stiamo aprendo nuovi mercati nel Sud America, nel Medio Oriente, in particolare Arabia Saudita, e stiamo facendo un ottimo lavoro di consolidamento e di ulteriore sviluppo nel cosiddetto Estremo Oriente, in particolare Cina e, sottolineo, Giappone e Corea, che sono paesi con i quali lavoriamo particolarmente bene. Da un punto di vista invece dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, che fa un po' parte del nostro DNA, senza la quale non riusciremo a sopravvivere, ci stiamo dedicando a due settori. Un settore più specifico legato alla prevenzione, per l'insorgere di patogeni infettivologici, virus e batteri, e un altro invece per completare l'offerta relativa alla diagnostica molecolare sul monitoraggio del trapianto, là dove siamo già leader, per mantenere questa leadership che abbiamo anche per il prossimo futuro. Questo è quello che stiamo facendo per i prossimi anni. Sulla lunga scadenza, vi dirò il progetto che così ci sta impegnando di più, anche il più intrigante per tutti noi, è quello di formare la prossima generazione di manager. Abbiamo individuato un talent pool di persone che stiamo portando avanti dall'interno, con dei formatori esterni ed interni, e che forse rappresenteranno la prossima classe di management del futuro di Elite Group, quando andremo ad espanderci ulteriormente. Grazie. 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 Grazie a tutti.